Allo stadio Bernicchi le città di Castella battuto 3 a 1 il Flaminia Civita Castellana nel turno infrasettimanale di Serie D l'ultimo del 2022. Biancorossi che sono così tornati alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi mentre i laziali sono incappati nelle quinto KO stagionale. Il primo squillo del match è di marca ospite con il sinistro di Sciamanna deviato in corner da Nannelli. Dall'altra parte al decimo Gorini su calcio di punizione disegna una traiettoria quasi perfetta con la palla che centra in pieno il palo alla destra di Zappalà. Il città di Castello si rifà vedere in avanti anche al 22esimo ma Calderini con questo diagonale non riesce a trovare lo specchio. La partita poi scivola via senza emozioni fino al duplice fischio dell'arbitro Matteo Campagni di Firenze con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0 a 0. Nella ripresa al minuto 60 è ancora Gorini a provarci su calcio di punizione con Zappalà che alza la palla sopra la traversa. I biancorossi riescono a sbloccare il match al 64esimo con il neo entrato Fodesilla che dalla destra si accentra e fa partire questo preciso sinistro che si infila all'angolino e non lascia scampo a Zappalà. Alla 76esimo c'è spazio per le proteste del Flaminia che reclama un calcio di rigore per questo tocco di mano in area di Mariucci. Per campagni però il braccio è attaccato al corpo e non ci sono quindi gli estremi per concedere il penalty. La situazione per gli ospiti si complica all'87esimo quando Gasperini rimedia il doppio giallo e quindi il rosso per questo fallo commesso ai danni di Calderini. Ma il Flaminia non molla e al novantesimo trova la rete del pareggio. Sponda aerea di Wilson Cruz, assist di Sciamanna e tappine vincente di Santilli che da pochi passi spedisce la palla alle spalle di Nannelli. Ilecitta di Castello non ci sta e due minuti più tardi si riporta in vantaggio grazie alla giocata di Calderini che pesca sul secondo palo il colpo di testa vincente del classe 2004 mezza Soma. Il Flaminia protesta con l'arbitro Reo secondo gli ospiti di non aver interrotto il gioco per permettere i soccorsi a Mosti che era rimasto a terra. Proteste troppo vivaci che costano il rosso diretto a Wilson Cruz. Durante il settimo minuto di recupero Fumanti interviene così in area di rigore su Papa Russo e campagni indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Calderini che batte Zappalà, realizza e le gole delle 3 a 1 e manda i titoli di coda del match.